A maggio andranno in svolgimento Transportec e Next Mobility Exhibition, due manifestazioni che si occupano di trasporto, l'una di trasporto su merci, l'altra di trasporto su persona, due manifestazioni indipendenti e molto verticali sulle loro specificità, ma che hanno molti elementi in comune. Oltre a un momento di incontro tra domanda e offerta, queste due manifestazioni si occuperanno di dare luce a tanti temi che attraversano in tutte le fasi di produzione e di distribuzione del trasporto e che sono temi recenti, temi attuali e soprattutto temi che parlano di futuro. Sarà importante analizzare, sia dal punto di vista della produzione, ma anche dal punto di vista della normativa e dei comportamenti, come l'unione di questi tre fattori e la proiezione sul futuro possano portare un beneficio sostenibile a tutte le comunità e quando si parla di sostenibilità non è solo la sostenibilità ambientale, ma anche quella sociale e ovviamente un'opportunità di produzione e di lavoro e di distribuzione per le filiere che lavorano in questi contesti. Saremo impegnati nel dare risalto a quello che possono essere progetti prossimi, molto vicini, ma anche sicuramente a provare a dare momenti di confronto sulle prospettive più di lungo periodo che consentano poi a quello che sono gli attori della produzione di programmare, di convertire, di modificare o di applicare in maniera propedeutica proprio al futuro le loro attività quotidiane. L'appuntamento è dall'8 all'11 maggio in Fiera Milano.